Siamo qui a Largo Maurizio Estate con Alessandra Clementi, Assessore alle politiche giovanili e non solo. Una persona che da sempre è impegnata e ci mette la faccia. Essere qui oggi con gli studenti, nonostante questo maggio che sembra un autunno, però è una primavera di rinascita, soprattutto per Maurizio Estate. Per me è un onore essere qui oggi perché ho potuto contribuire nel ruolo insieme al Sindaco Luigi De Magistris, che mi è stato attribuito di Assessore con Delega alla Topone Mastica, a far sì che questo Largo, che per tanti anni nel cuore della famiglia portava il nome di Maurizio, diventasse realmente il Largo dove per tutta la città c'è il nome di Maurizio Estate. E' importante venire qui oggi, guardare quella targa in silenzio, ma è importante immediatamente dopo invece parlare, denunciare, informarsi, attivarsi, contribuire positivamente alla distruzione di un modello culturale che è quello della violenza. E scegliere come città quei percorsi educativi, culturali, che mettano per le ragazze e per i ragazzi, soprattutto al centro, l'opportunità di incontrare dei modelli positivi. Questo abbiamo fatto questo lungo weekend con Roberto Bolle, questo è quello che facciamo oggi con Maurizio Estate e che faremo domani. Domani infatti ci diamo appuntamento al Cinema Modernissimo e con Enzo Grananiello, una meravigliosa canzone, inneggiamo a quei modelli positivi per le ragazze e per i ragazzi di Napoli, scegliendo di dedicare tutto questo a giovani vite spezzate come quelle di Maurizio, ma soprattutto alla vita di oggi di tante ragazze e ragazzi che non devono sbagliare e soprattutto non devono mai porre la parola fine alla propria vita, né con scelte sbagliate né con stili di vita sbagliati. Grazie a Rossa. Grazie a voi.